Tutti a terra! Via, via, forza, avanti, muoversi! Era un poliziotto. Joey, sbarazzatene. Cerco di vivere una vita normale, ma frequento persone molto pericolose. Il mio lavoro è rimediare ai casini che fanno loro. Non faccio domande. E funzionava tutto alla perfezione. Va a lavarti, quelle mani fanno paura. Per come la vedevo io, se la mia famiglia non sapeva, non correva alcun rischio. Fino alla notte in cui... A terra! State bene! Qualcuno prese quella pistola. Detective Raider. Troverò quella pistola perché dalla mia ho l'organizzazione criminale più forte del mondo. Io sono la legge. Quella pistola scotta. Tommy l'ha usata per fare fuori un poliziotto corrotto. Se la trovano, sono morto. Puoi riuscire a trovarla prima della polizia. Hai una cosa che appartiene a me, una 38 a canna corta che hai vinto a carne. Una scala reale ed è finita nelle mie tasche. 100 dollari e finisce nelle mie. Quella pistola è là fuori, la mafia russa è coinvolta, la situazione sta per esplodere. Io non ho sposato un uomo malvagio. E lo so, non è questo che vedo quando ti guardo negli occhi. Voglio la mia pistola! I morti non raccontano favole. Volete pestarmi? Da quant'è che ci conosciamo? Dai! Lui da me! Non avevo mai visto il male prima di stanotte. Il male vero. Finitelo! Non farlo, Frankie! Non farlo!